Cari fratelli e sorelle provenienti dall'Italia e da tante parti del mondo. A tutti e a ciascuno rivolgo un cordiale saluto. A Torino è stato proclamato Beato Luigi Bordino, laico consacrato della Congregazione dei Fratelli di San Giuseppe Benedetto Cotolengo. Egli ha dedicato la sua vita alle persone malate e sofferenti e si è spesso senza sosta in favore dei più poveri, mendicando, medicando e lavando le loro piaghe. Ringraziamo il Signore per questo suo umile e generoso discipulo. A tutti auguro una buona domenica e per favore non dimenticatevi di pregare per me. Buon pranzo e arrivederci! Grazie! 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 Grazie!